allora buonasera vi do alcune ulteriori informazioni sul comparto della mobilità elettrica ricordando sempre poi per chi vedrà il video magari registrato che ne trovate parecchi nella mia sezione mobilità nel mio sito ufficiale portavosi girotto punto iti la prima notizia riguarda una possibilità di ricarica elettrica gratuita diciamo che è un po l'uovo di colombo nel senso che qualcuno sta ha già approntato alcune alcune stazioni di rifornimento gratuite perché perché il costo dell'elettricità viene pagato dagli sponsor dagli sponsor che possono essere sia enti pubblici che naturalmente aziende private quindi stanno già implementando in questo momento ci sono cinque centraline in lombardia di ricarica e appunto la ricarica è gratuita si ottiene tramite il tesserino sanitario e ribadisco è l'uovo di colombo perché il costo della ricarica viene coperto praticamente da sponsor ripeto o il municipio in questo caso il comune o soprattutto in futuro quando metteranno i volumi da classici sponsor pubblicitari per cui è ammissibile prevedibile è possibile che in futuro fare la ricarica dell'auto elettrica sia gratuito perché appunto il costo è relativamente basso e può essere coperto da sponsor pubblicitari per cui io mi fermo nella stazione di rifornimento che avrà un display e durante la ricarica naturalmente vedrò spot pubblicitari vedrò offerte speciali e attenzione che il centro commerciale a un chilometro da questa colonnina ha in promozione il 3x2 sulla pasta piuttosto che il ristorante pinco pallino piuttosto che l'albergo la struttura turistica classiche in sezioni pubblicitarie quindi ho detto all'inizio è un po' un nuovo di colombo essendo il costo della ricarica elettrica decisamente inferiore rispetto a quello dei classici combustibili sarà possibile in questo momento ripeto ci sono già 5 colonnine in lombardia che offrono ricarica gratuita tramite tessera sanitaria e in futuro stanno cercando ulteriori sponsor per poter aprire aumentare il numero di colonnine con la ricarica pagata dagli sponsor che durante la ricarica vi faranno vedere pubblicità quindi in questo caso appunto la pubblicità può aiutare nelle ricariche ricariche a domicilio la bp la british petroleum la bp la grandissima multinazionale del petrolio bp british petroleum a sta implementando nelle sue stazioni di servizio una nuova modalità di ricarica mobile su carellino molto banalmente un paccone di batterie montate su un carellino di vi faccio vedere la foto perché è qui un attimo che giro la fotocamera eccolo qua vedete questo è il sito la società possiamo anche dirlo si chiama free wire ma verrà diciamo ha stipulato un accordo con british petroleum come vedete è un banale carellino quello che potrebbe trasportare una barchetta potrebbe trasportare altri oggetti è un carellino con un grosso paccone di batterie faccio vedere anche quest'altra versione direttamente il pacco batterie con le ruote sotto qui c'è un'ultima immagine un'ultima immagine appunto del carellino con il pacco batterie mentre questa appunto è la versione del pacco batterie direttamente su ruote ecco vedete questa è una banale anche in questo caso nuovo di colombo una soluzione visto che in molte parti non solo dell'italia ma anche di altri paesi i punti di ricarica sono ancora pochi come si dice se la montagna se maometto non va alla montagna la montagna va a maometto quindi in questo caso se non ci sono centraline di ricarica la ricarica va nel luogo in cui c'è l'auto che ha bisogno di essere ricaricata ribadisco non è diciamo una una boutade da bar ma british petroleum ha stilato un accordo con questa società verranno resi disponibili queste unità mobili di ricarica nel regno unito e in altri punti strategici in europa e io mi aspetto che molto velocemente qualcun altro seguirà questo esempio proprio dovuto alla mancanza strutturale ancora di punti di ricarica sufficientemente numerosi sufficientemente numerosi per ovviare a questa mancanza anche shell anche l'altra un'altra grandissima multinazionale del petrolio sta implementando banalmente i propri distributori di carburante shell a 43 mila distributori di carburante in tutto il pianeta 43 mila è una delle più grande più grandi e dentro eventi c entro il 2025 vorrà avere il 20 per cento dei propri ricavi dalle colonnine di ricarica delle auto elettriche quindi ha capito perfettamente ha capito perfettamente che il futuro è scritto non si ferma che deve deve gestirlo accompagnarlo sfruttarlo e quindi sta inserendo moltissime colonnine di ricarica in questo caso in gran bretagna paesi bassi e california quindi io ancora una volta invito eni a fare lo stesso ragionamento e quindi non solo eni ma tutte le società e quindi anche l'associazione di categoria dei distributori a implementare nei distributori appunto anche la colonnina elettrica credo sia una cosa scontata ma così scontata non è dal momento che in italia pochissimo si sta muovendo ora noi come governo naturalmente spingeremo su questo in realtà le normative ci sono già perché noi abbiamo già il piano nazionale infrastruttura ricarica elettrica il pnire l'ho spiegato in uno dei miei primi video per cui per chi ha piacere va nel mio sito portavoce girato punto it sezione mobilità sono diversi video in uno dei primi spiego proprio la situazione legislativa e quindi c'è questo obbligo per le nuove stazioni in servizio per quelle soggette a ristrutturazione complessiva e anche per quelle poste in aree in cui il valore dell'inquinamento sfora i limiti e questo vuol dire mezza italia perché mezza italia è oltre i limiti di inquinamento e quindi c'è l'obbligo di installare queste colonnine di ricarica elettrica quindi l'invito è anche per i nostri operatori nazionali a predisporre le ricariche elettriche sui sui loro distributori di carburante ultima notizia che vi volevo dare riguarda l'audi anzi non è l'ultima scusate è l'audi che sta anche lei ha capito che uno dei business del futuro saranno appunto l'elettricità le batterie in questo caso sta fornendo progetti in cui le batterie domestiche le batterie installate nelle abitazioni saranno utilizzate sia per l'utenze domestiche della casa sia per il fornimento delle auto elettriche sia per il fornimento delle auto elettriche e sia per dare i famosi servizi di dispacciamento alla rete che più volte vi ho spiegato sono servizi che vengono pagati sono servizi che vengono pagati quindi in buona sostanza audi ha predisposto questo pacchetto che si chiama audi smart energy una fantasia incredibile energia intelligente audi questa è la traduzione e quindi è un software che gestisce la rete domestica dotata di sistema di accumulo di batteria sia per il riscaldamento domestico sia per dare energia alla rete quando è in crisi sia per ricaricare l'auto elettrica quindi un ulteriore conferma di come le case automobilistiche si stiano preparando all'avvento della mobilità elettrica un'altra soluzione che stanno mettendo appunto o in questo caso una start up una anzi non una start up un'azienda italiana è aggregare in un'unica app proprio le app del telefonino le app del telefonino aggregare tutti i circuiti di ricarica perché in questo momento è per un possessore di auto elettrica è abbastanza un'avventura andare a ricaricare in vari circuiti perché perché ogni circuito ha la sua schedina di ricarica quindi devo avere la schedina dell'enel devo avere altre schedine e non posso prenotare e pagare tutto via app che sarebbe una cosa mostruosamente più comoda e quindi c'è abbiamo un'azienda italiana che sta mettendo appunto questo sistema in maniera che sia tutto gestibile da app vedere tutti i punti di ricarica prenotare la ricarica pagare tramite smartphone una notizia invece poco poco felice per chi non lo sapesse in italia sei mesi un anno fa un'azienda aveva provato a sviluppare un progetto l'aveva chiamato ambra per sviluppare una macchinetta elettrica di piccole dimensioni tutta italiana ma il progetto è fallito è fallito letteralmente nel senso che purtroppo l'azienda è in fallimento e c'è un curatore fallimentare che sta seguendo questa operazione a dimostrazione del fatto che non è assolutamente così semplice costruire un intero auto veicolo tutto italiano in questo momento ci sono diversi fornitori di componentistica ma costruire un'intera auto italiana non è così semplice ed era per questo che io avevo lanciato l'allarme un paio di settimane fa dicendo attenzione abbiamo molti posti di lavoro che sono a rischio perché sono tutti basati ancora sulle auto con i motori a scoppio che naturalmente dureranno molti 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 anni ancora però fatalmente il destino è quello delle auto vuoi elettriche a batteria vuoi a idrogeno vuoi con altre tecnologie però dovranno avere emissioni vicine allo zero inoltre ultima ultima notizia abbiamo la possibilità di supportare di velocizzare questa transizione prelevando una diciamo una cifra relativamente piccola pochi decine di pochi decine di milioni da un da uno strumento che in questo momento è attivo ma per la sua complessità non viene sfruttato mi riferisco al conto termico il conto termico è uno strumento attivo funzionante che ha a disposizione 800 milioni ma finora ne sono stati utilizzati solo 300 perché è piuttosto complicato da utilizzare se noi prendiamo una cinquantina di milioni da questi 500 che sono lì fermi inutilizzati e li mettiamo in forma di incentivo per un tot di auto elettriche ecco che possiamo velocizzare grandemente la dispiegamento delle auto elettriche che ricordo non solo solo più pulite e quindi migliorano la qualità dell'aria ma soprattutto possono fungere dal sistema di stoccaggio per le rinnovabili di soprattutto per il giorno che il fotovoltaico produce moltissimo ma non abbiamo batterie per per stoccare questa energia in eccesso e le auto elettriche servirebbero benissimo allo scopo per poi restituire invece l'energia quando la rete ne ha bisogno quindi questa sarà un'altra cosa che mi impegno a portare avanti naturalmente con tutti i colleghi che in questo momento siedono nei ministeri e suggerire questa azione perché appunto è a costo zero il fondo c'è già basterebbe solo una piccola quota spostarla su un fondo a disposizione per le auto elettriche bene con questo io ho concluso vi ricordo che tutte le altre mie informazioni le trovate su dei video nella mia sezione mobilità sul sito ufficiale portavocegirotto.it per cui se volete molte molte altre notizie tecniche e giuridiche e legislative le trovate naturalmente sul mio sito suddetto per alfredo bellucco non lo meriterebbe ma gli rispondo per l'ennesima volta basta alfredo che vai nel mio canale youtube che vai nel mio sito e che ovviamente cerchi le notizie sul momento 5 stelle usura npl e banche ne parliamo da cinque anni e se la commissione d'inchiesta è stata fatta l'anno scorso è stata fatta anche grazie alla nostra pressione visto che avevamo chiesto la prima commissione d'inchiesta ancora a maggio 2013 quindi questo è un tema che diciamo sfidiamo chiunque a dimostrare che non ci siamo interessati forse alfredo ti sei distratto e non hai visto che il tour che è stato fatto per più mesi nelle varie città del centro italia dai nostri villa rosa pesco eccetera lo abbiamo fatto noi a vicenza c'eravamo noi a protestare per banca popolare di vicenza eccetera eccetera cioè basta cercare su internet è pieno e strapieno di video e di iniziative di post di articoli in cui parliamo di npl usura e banche bene grazie a tutti buona serata grazie a tutti